Dica 33, il medico risponde, nuovo appuntamento settimanale, ritorna nei nostri studi. Lo ringrazio per questo, ma anche per la sua chiarezza e disponibilità, il dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale. Buongiorno, dottor Cascavilla, ben trovato. Buongiorno. Allora, partiamo da un dato che non voglio definire allarmante, perché è vero che se da una parte i tumori sono in crescita, dall'altra è vero anche che si guarisce di più. Quali sono i fattori conosciuti, dottor Cascavilla, che possono determinare il cancro? La malattia tumorale può definirsi una patologia multifattoriale, cioè che riconosce una combinazione di fattori. Alcuni sono modificabili, dipendono dai nostri comportamenti di vita, altri invece sono indipendenti dalla nostra volontà. Per esempio l'età, il sesso, la familiarità. Ma una cosa interessante è che i fattori modificabili sono di gran lunga superiori agli altri. Quindi questa è una buona notizia, perché non siamo in balia di un destino cieco, ma possiamo prenderlo per mano. Possiamo far sì che il nostro destino sia nelle nostre mani. È vero dunque che i tumori sono in crescita, però come giustamente lei accennava, crescono anche le possibilità di cura e di guarigione. Persino quando alcune cellule tumorali sono uscite dal recinto dell'organo di origine, scappate altrove, in alcuni casi precoci possono essere riacciuffate e indirizzare il decorso della malattia verso un esito più favorevole. Quindi se c'è una via d'uscita al tumore, dobbiamo però porre attenzione alle porte di entrata del tumore. Dobbiamo evitare quelle porte che possono accedere, preludere all'insorgenza di un tumore. E questo si può fare battendo una sola via, la via maestra, quella della prevenzione. Ecco dunque, dottor Cascavilla, si parlava di patologia multifattoriale. Se è vero che ci sono dei comportamenti, degli atteggiamenti modificabili, delle cose che possiamo modificare, quale misure ognuno di noi può adottare per ridurre il rischio di avere un tumore? Ecco, nello specifico, che cosa evitare e che cosa invece può proteggerci? Sì, abbiamo molti nemici. Dobbiamo, alcuni nemici ci dobbiamo difendere da questi nemici, altri li dobbiamo disarmare. E' il caso del fumo? Occorre liberare i nostri organi dall'assedio cronico del fumo che li tiene sotto stagio. Pensiamo che solo il fumo è responsabile del 33% dei tumori. Un tumore su quattro è dovuto al fumo di sigaretta. Un altro campo molto importante dove si gioca la nostra salute è l'alimentazione. Anche qui ci sono fattori promuoventi, alimenti promuoventi ed altri invece protettivi. I frattori promuoventi, cioè che sono promotori dell'insorgenza di un cancro, possono essere innanzitutto l'alcol, l'eccesso di alcol. Quindi bisogna tenersi a quelle misure, diciamo che sono uguali per ogni tipo di alimentazione. Cioè massimo un bicchiere di vino per le donne al giorno e due per l'uomo. Al di sotto dei 18 anni non bisognerebbe bere. Parliamo di massimo appunto, due bicchieri per l'uomo, un bicchiere per la donna, ma se non si beve meglio, non dobbiamo per forza arrivare al massimo. Benissimo, non c'è un limite soglia sicuro in questo campo. Però dobbiamo evitare anche i cibi industriali, le carni rosse, quelle trattate, quelle provenienti da agricoltura contaminata, sia da pesticidi, erbicidi e diserbanti, ma anche da acque contaminanti. Dunque, se poi ci aggiungiamo l'attività fisica e l'eccessiva, evitare l'eccessiva esposizione al sole, le possibilità di ridurre le percentuali aumentano moltissimo. Perciò, dicevamo, la salute è nelle nostre mani. Ecco, quindi da una parte gli stili di vita, dottor Cascavilla, quindi diceva molto bene l'alimentazione e l'attività fisica, dall'altra però anche ci sono dei controlli medici e quali possiamo sottoporci per prevenire questo tipo di patologie. Certamente, qui il medico di medicina generale gioca un ruolo fondamentale. Il medico di medicina generale, quindi, può fare tantissimo in questo campo. Ad esempio, favorire l'adesione agli screening dei pazienti. Gli screening, ad esempio, della tumore alla mammella, che può determinare la diagnosi precoce. Oppure gli screening nei riguardi dei tumori del colon, attraverso la ricerca sangue occulto nelle feci, o della cervice uterina attraverso il PAP test. Questi ultimi due screening consentono di individuare quelle lesioni precancerose, cioè lesioni che non hanno subito ancora la trasformazione neoplastica e quindi sono suscettibili di guarigione totale. Inoltre, il medico di medicina generale conosce l'anamnesi familiare e quindi può intervenire in misura mirata per evidenziare quei nuclei familiari soggetti a patologie oncologiche di stampo genetico, ad impronta genetica. Ancora, può consigliare le vaccinazioni. Esiste una vaccinazione contro il papillomavirus oppure la vaccinazione contro l'epatite B. Infine, può anche avere un ruolo fondamentale nella causa antitumorale con la diagnosi precoce. La maggior parte dei pazienti si rivolge al medico di medicina generale. In prima battuta, i sintomi. Ci possono essere sintomi che sono spie allarmanti, quali perdite di sangue, e qui vanno valutate dal medico, ma anche sintomi poco appariscenti, poco indicativi, magari banali, sottovalutati. E qui c'è tutta l'abilità del medico nell'individuare testivamente questi sintomi che possono poi preludere a una prognosi migliore quando il paziente passa nelle mani degli specialisti, delle cure specialistiche. Il medico di medicina generale, il medico di famiglia, così come lo conosciamo, è un tassello importante in questo, anche nella prevenzione. Poi faremo una puntata doc dedicata alla figura del medico di famiglia. Dottor Cascavilla, non vorrei sbilanciarmi, ma probabilmente le previsioni future non sono proprio rose. In qualche modo potrebbe esserci un aumento dei casi di tumore. Noi però ogni puntata la chiudiamo con un messaggio positivo, un messaggio di speranza che vogliamo trasmettere. Quale? Dicevamo che la salute, anche in senso oncologico, è nelle nostre mani. Occorre creare abitudini corrette. Occorre sfruttare il significato intrinseco di abitudine che si mantiene nel tempo, nel bene e nel male. L'abitudine è una forza, è un circuito virtuoso in questo campo, aderendo ai principi corretti di vita e che tendono a mantenersi nel tempo. Ricordo che abitudine deriva da habitus. E se noi confezioniamo un abito basato su cattive abitudini, non ci protegge, ci espone a spiacevoli conseguenze. Se invece ci cuciamo addosso un abito, secondo quello che la scienza ci detta, bene, quest'abito ci protegge. È l'abito che noi non dobbiamo tenere nell'armadio o tirar fuori solo in qualche occasione, ma è l'abito che dobbiamo indossare tutti i giorni, perché è l'abito preferito, quello che ci protegge da queste malattie. Mi è piaciuta molto questa frase che lei ha detto, la salute è nelle nostre mani. Quindi grazie anche per questi messaggi positivi che chiudono ogni nostro appuntamento. Beh, possiamo già anticipare l'argomento della prossima settimana. Parleremo di ipertensione arteriosa, quindi di pressione alta, comunemente conosciuta come la pressione alta, e anche lì ci saranno sicuramente tanti argomenti interessanti. Intanto questa puntata, ma anche le altre, di Dica33 il medico risponde. Potete seguirle, rivederle, se magari avete perso qualche passaggio, sul canale YouTube di Padre Pio TV. Grazie dottor Cascavilla, alla prossima settimana. Grazie. Io restituisco la linea alla regia perché il nostro appuntamento prosegue. Anche quest'oggi, state con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.